Buongiorno, Filippo Diodovic dalla sala operativa di G. I mercati finanziari non mostrano movimenti significativi in attesa dei risultati delle elezioni politiche in Olanda e delle decisioni della Federal Reserve in materia di politica monetaria. Negli ultimi giorni c'è stato un forte ritorno di consensi per il leader del Partito Popolare, Rutte, che ha modificato totalmente il quadro politico evidenziato nei mesi scorsi, dove il favorito alla vittoria era il populista Gerd Wilders, con il proprio programma basato sulla liberazione dell'Olanda dall'Islam, dall'immigrazione selvaggia, dall'Unione Europea, dalla moneta unica. Lo spauracchio di un'uscita dell'Olanda dall'Unione Europea è praticamente scomparso. Lo scenario più probabile al momento è quello di una grande coalizione di partiti moderati. Tuttavia, visti i recenti risultati delle elezioni, gli scenari prospettici promossi dai sondaggi potrebbero anche essere ribaltati. Non escludiamo quindi una vittoria di Wilders che potrebbe rialimentare il sentiment anti-Unione Europea ed avere anche un effetto così a catena sulle prossime elezioni in Francia e in Germania. Crediamo sia quasi impossibile invece lo scenario di un Wilders capo di governo, vista la difficoltà a trovare un alleato. Domani mattina, presto, dovremmo avere le prime indicazioni sull'esito delle elezioni. Stasera invece, grande appuntamento alle 19, conosceremo infatti le scelte del FOMC, il braccio armato della Federal Reserve. È ormai scontato che la scelta sia quella di alzare i tassi di interesse di 25 punti base. Sarà interessante seguire la conferenza stampa della IEL e valutare il grafico dot plot con i livelli dei tassi previsti dagli stessi banchieri centrali membri del FOMC, in modo da estrapolare informazioni relative alle prossime azioni della Federal Reserve, ovvero quanti incrementi del costo del denaro effetturati nel 2017. Ci aspettiamo forte volatilità sui cambi contro dollaro. Con questo è proprio tutto. Buon trading! Grazie a tutti!